Ma voi approfitterete degli sconti del Black Friday? Non lo so. Vestiti, elettronica, cose per la casa, in mente già magari cosa le può essere utile? Sì, sicuramente, sì, i soliti pigiami, sarò banale, però sì. Penso che sia una buona opportunità, ma non sono sicuro di poter ne approfittare, vedrò. Venerdì 23 novembre torna il Black Friday, il venerdì nero importato dall'America, che deve il suo nome al traffico intenso, nero appunto, che ogni volta si crea per questa speciale giornata di saldi. Indicato come una sola data, in realtà gli sconti, specialmente nei siti online, sono cominciati già da inizio settimana e nei grandi centri di distribuzione si parla di Black Weekend. Un evento che interessa soprattutto una fascia di pubblico è tra i 20 e i 50 anni e che registra sempre in cassi miliardari, anche se per il 2018, stando a uno studio della Confesercenti, il Black Friday prevede un giro d'affari di 1,3 miliardi di euro, il 13% in meno del 2017. A crescere, invece, è la PIL dei negozi reali, dal 39 al 45%. Quando si parla di saldi, però, è sempre bene prestare attenzione a ciò che si compra, in particolare guardando che si è esposto il prezzo originario di ciò che si andrà a comprare e concentrando gli acquisti online su siti sicuri. Dobbiamo intanto cercare di acquistare da siti sicuri che abbiano l'indicazione nella barra di HTTPS, non ci affidiamo per scontistiche particolari a siti che magari nascono ad hoc e poi in altrettanto poco tempo svaniscono nel nulla.